Ecco qui, venga, venga, Mondardini. Permesso. Loro chi sono? Dalle pompe funebri? Pompe funebri. Siamo morti in stanchezza. Mondardini, sì, non Mondardini. Ma ando stiamo? Ma come è stato? Beh, ecco io, Mondardini. Il nostro franzo non c'è più. Ma cosa mi dici? Domandino gli ho portato il caffè e lì sembrava che dormisse e invece è morto. Era andato nel sono. Era morte migliore, signora. Ah, per me era morto. Signora, Mondardini, non c'è più. Venga, vuole vedere la salma? Oddio, se vuole. Viene anche lei. No, io no, viene lui. Vada, vada, Mondardini. Vada a vedere la salma. Ah, scusi, ci sarebbe un... C'è quel bagno? No, la cucina. Perché a me queste cose me le hanno un nervoso. C'ho un buco. Venga, venga, che ce l'accompagno io. Dove? Oddio mio! Come faccio io senza di lui? Capirai, Mondardini? Dice, andiamo da un amico mio al mare e ci divertiamo. E che fa sui nervosbattieri o in caffè? No, no, il caffè non mi mette più un nervosismo. C'ho un buco qua dentro. Fammi una cosettina, non so, qualche cosa che mi dici su. Ecco, se non c'hai altro, un po' di frutta. Questi che sono? Pansotti alle noci. Pansotti. Vuole che ce li scaldo? Gli scaldi? No, no, questi sono buoni pure freddi. Piuttosto se ci avessi incocciuto... Si, si, vuole mica dello champagne. Fresco? Freschissimo. Si, buono. E quello che ce vuole? Per tirarme su. Eccoli. E chi sa aspettava? La disgrazia di niente? No. La signora dice, dormiva, invece, anche. E avvi?